Ripartiamo dalla Voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Tratto dal libro va dove ti porta il cuore. 3. Ogni volta in cui crescendo avrai voglia di cambiare le cose sbagliate in cose giuste, ricordati che la prima rivoluzione da fare è quella dentro se stessi. La prima è la più importante. 4. Lottare per un'idea senza avere un'idea di sé è una delle cose più pericolose che si possano fare. Ogni volta che ti sentirei smarrita, confusa, pensa agli alberi. Ricordati del loro modo di crescere. 5. Ricordati che un albero con molta chioma e poche radici viene sradicato al primo colpo di vento, mentre un albero con molte radici e poca chioma la linfa scorre a stento. 6. Radici e chioma devono crescere in ugual misura. Devi stare nelle cose e starci sopra. Solo così potrai offrire ombra e riparo. Solo così, nella stagione giusta, potrai coprirti di fiori e frutti. 6. E quando poi davanti a te si apriranno tante strade e non saprai quali prendere, non imboccarne una a caso, ma siediti e aspetta. 7. Respira con la profondità fiduciosa con cui hai respirato il giorno in cui sei venuto al mondo senza farti distrarre dal nulla. 8. Aspetta e aspetta ancora. Sta ferma, in silenzio e ascolta il tuo cuore. 8. Quando poi ti parla, alzati e va dove lui ti porta.